Il tema è che però dobbiamo trasformare un vantaggio che è quello della città dove c'è la farmacia sotto casa, dove c'è il salumiere sotto casa, dove c'è tutto, in un non svantaggio e lo vedremo fra poco anche sul punto di vista alimentare e sul punto di vista della mobilità. L'inattività fisica, il diabete, la pressione arteriosa, l'inquinamento come vedete hanno anche una spesa non indifferente, quindi provocano un incremento della spesa. Le città influenzano il modo di vita delle persone e al di là del panino al fast food, al di là del fatto che siamo sempre seduti, al di là che siamo curvi sul computer perché è la cosa, al di là del fatto che il massimo della mobilità nostra è quello del pollice per cambiare gli altri dita durante il giorno per fare il computer, la sera il pollice per cambiare la trasmissione e forse il piede destro e sinistro se facciamo un po' di cose in macchina, se però abbiamo il cambio automatico solo uno dei due piedi si muove. Questo è il succo del discorso della no. Quindi quando io o i miei assistenti dicono qualcosa a un paziente gli devono dire qualcosa che per lui è assurdo, 10.000 passi al giorno fatti a passo veloce. Uno non ha idea ma 10.000 passi al giorno sono tanti. Cioè, tanto per dire io vivo al policlinico praticamente e cinque volte il giro del policlinico. Non so chi conosce il policlinico. Non è una cosa banale. Credo, adesso non voglio fare una richiesta di alzata di mano, ma insomma molto pochi qua dentro fanno queste cose salvo quelli bravissimi che la sera fanno un po' di corsa. Prego la prossima. Questo oggetto che abbiamo costituito, tanto per dirvi che poi qualche volta l'Italia si frusta un po' troppo, è stato talmente tanto ben valutato a livello internazionale che c'è un progetto internazionale che si chiama City Change in Diabetes. Questo per me, endocrinologo, è molto importante perché parla di diabete. Cioè praticamente un'organizzazione internazionale guidata dall'University College London e dall'Astino Institute di Copenhagen hanno deciso di vedere come si può cambiare il diabete nelle città. Proprio perché, come vi dicevo prima, il diabete è un modello proprio sperimentale. Passatemi il termine, nessuno dei diabetici è un topolino, però il modello sperimentale nel suo complesso come patologia, di patologia cronica, di patologia di cui conosciamo tutto, di patologia di cui abbiamo dei farmaci meravigliosi che stanno entrando nel mercato e che ci considerano di guarirlo, ma dove lo stile di vita e soprattutto la vita nelle città sta diventando un fattore aggravante terribile. Si muore molto più di diabete in città che non in campagna. Allora c'è questo progetto, anche perché un'altra cosa che vi terrorizzerà un pochino se pensate ad essere potenziali pazienti, su 100 milioni di diabetici 50 milioni sanno di esserlo, 25 milioni hanno almeno un trattamento, 12 milioni e mezzo hanno un trattamento abbastanza buono, 6 milioni e mezzo vanno a target con il risultato finale. Quindi da 100 milioni, quindi 6% circa nella media mondiale, ha il risultato ottimale di cura del diabete. Nelle città, questo è molto più basso, specie nelle città, come vedete i simboli qua sotto delle città, non so se riuscite a vederle, sono le città coinvolte a Mexico City o a Shanghai, questo numero va al 2%, a Copenhagen sale al 15%. Quindi un'influenza della tipologia di vita c'è sicuramente. Roma, appunto questo lo dicevo per non fustigarci troppo, è stata scelta dai due enti internazionali come modello di città intermedia, perché non è certamente Mexico City con 21 milioni di abitanti, non è inquinata come Taijin, non è una piccola città tutta infiocchettata come Copenhagen, ma è stata scelta come città italiana da poter sfidare le altre per cercare di riaderizzare questa curva e portarla sempre in alto. Grazie, alla prossima. Stiamo andando molto rapidamente alla conclusione. Noi dobbiamo prima mappare come è la situazione del diabete a Roma, l'abbiamo fatto, poi dobbiamo condividere alcune cose con gli amministratori, lo stiamo facendo, e poi abbiamo parlato con il sindaco, con la vice sindaco, con altri componenti dell'amministrazione della città metropolitana, intendo dire Roma larga, non Roma stretta, anche perché per noi medici è molto importante sapere che differenza c'è fra Roma centro, Roma e periferia, voi sapete che esistono differenze epidemiologiche, sociali, ma anche sanitarie, estremamente impattanti sulla differenza, e poi fare delle azioni, fra le azioni ovviamente c'è anche quella della mobilità, per questo credo di essere qua, tra le altre cose. Grazie, alla prossima. Questo è il progetto appunto che vi dicevo, andiamo avanti se c'è una successiva, giusto per ricordarvi che la Roma città metropolitana ha queste caratteristiche riguardo agli indici di popolazione residente secondo i censimenti, ma insomma questo vi racconto una cosa che voi sapete meglio di me, ancora avanti. Questi sono i cambiamenti demografici, il numero di ultra 65 anni è cresciuto di 136 mila unità solo negli ultimi 13 anni e a partire dal 71 ci sono sempre più famiglie monocomponente, soprattutto sugli ultra 65 anni, quindi abbiamo anche una problematica di intasamento della popolazione urbana, andiamo ancora avanti. Il diabete nell'area metropolitana di Roma, come vi dicevo prima, sta crescendo, attenzione, non è che Roma fa venire il diabete, perché queste comunicazioni sono devastanti, domani tutti a vetrarla. No, non è questo il tema, è che chiaramente Viva nelle città ci ha portato, ve lo ricordo, assieme ad alcune cosettine tipo la colorazione dell'acqua, i vaccini e gli antibiotici ha portato a una vita media di 45 anni, 85, quindi ancora una volta non sono un verde nel senso di tutti nei campi con i fiori in testa, ma cerchiamo di ottenere il meglio da questa urbanizzazione, non averne anche gli effetti collaterali se possibile, cioè la colorazione dell'acqua è una cosa ottima, meglio che non pulsi di cloro all'acqua, quindi che sia ben equilibrata, direi la stessa cosa riportata a città. Quindi il diabete sta aumentando e il diabete a Roma provoca un aumento soprattutto per i fattori di obesità e quant'altro. Come vedete il Lazio si colloca fra le regioni nell'ambito della media italiana con maggiore incidenza di diabete e Roma nelle sue varie articolazioni ha una prevalenza piuttosto importante. andiamo ancora avanti. E ovviamente noi non è che facciamo un discorso oggi, facciamo un discorso di prevenzione, facciamo un discorso prospettico. Allora da qui a dieci anni cerchiamo di fare possibilmente che Roma diventi, dico Roma per dire una qualsiasi città, potremmo dire Milano, Torino, Bolzano o Catania, diventi un fattore migliorante la situazione. Quindi noi medici ci mettiamo tutto il nostro impegno per quanto riguarda la parte terapeutica e la parte sanitaria. Ma ovviamente abbiamo bisogno dell'aiuto di urbanisti, di architetti e di quant'altro perché, andiamo avanti ancora, fra le attività motorie e qui non parlo della mobilità come intendete voi ma io parlo proprio della mobilità delle gambe, fra le attività motorie esistono un paio di attività motorie che sono quelle più banali dal jogging al running o al cammino e basta che consentono di abbattere dal 10 al 15 fino al 30 per cento la necessità di terapie, quindi anche costi, la necessità di, la possibilità di complicazioni perché vi avete grosse complicazioni e un abbattimento di questa percentuale non lo tiene nessun farmaco che io conosca. Quindi il farmaco più migliore che potrei consigliare a un paziente è quello Muoviti. Andiamo ancora avanti. Per cui abbiamo con il City Institute e grazie anche alla collaborazione di un grande della nostra atletica, il nostro corridore vincitore alla maratona da Milano, che ci ha aiutato, abbiamo costruito un testo di percorsi per camminare nella città di Roma invece di fare il solito fatti una passeggiata, abbiamo fatto il percorso per i musei, il percorso attraverso le cupole di Roma, il percorso attraverso le colonne di Roma, attraverso i monumenti più belli, quello in periferia, quello verde, i compagni belli, abbiamo fatto proprio un librettino che non so se qui ce n'è, eccolo, quello lì che vedete a sinistra, non so se riuscite a vederlo, che abbiamo dato e stiamo dando ai pazienti. Allora prenda questa insulina, prenda questa compressina e faccia questo. Fa parte del pacchetto che verrà prima o poi, domani abbiamo una riunione specifica all'Istituto Superiore di Sanità, verrà dato al diabetico romano in maniera da avere una prescrizione anche un pochino più ludica che non la solita fatta l'iniezione, prende la compressa, vai a letto presto, mangia di meno e compagnia. Grazie, credo che siamo praticamente in fondo. Tutto questo l'abbiamo presentato il 3 luglio 2017, quindi un mese e mezzo fa, se volete togliere il mese d'agosto che c'è di mezzo, alla presenza del Ministro Lorenzini e di tutta un'altra serie di persone e credo la prossima sia l'ultima. In buona sostanza io, e con questo concludo, diciamo che chiedo a voi che siete così importanti per la vita sociale e per l'amministrazione e per il sistema della mobilità in Italia e nelle città in particolare di darci una mano perché ho sentito prima l'introduzione del collega dell'ISPRA che ha introdotto il convegno, obiettivamente se uno fa intanto 50 di quei mille passi per andare a prendere l'autobus o 100 per andare a prendere il car sharing più vicino, intanto accumula benefits che poi portano a quei 10.000 passi al giorno che appunto sono la miglior terapia per moltissime malattie. Vi ringrazio l'attenzione.